vediamo come produrre un modello che dovrà essere realizzato con macchine in stereolitografia cioè quindi dovrà essere realizzato in materiale fisico questo è il nostro modello, è un solido quindi vediamo quali sono le caratteristiche prima cosa dovrà essere un solido oppure un mesh ma come viene definito watertight mesh cioè a tenuta stagna o ermetico vediamo un esempio questi sono tre modelli i primi due non sono realizzabili almeno il primo e il secondo ma con grande costo mentre è possibile fare il terzo quindi quello che si dice a tenuta stagna possiamo vedere nei primi due questa è una sfera forata e con dei coni i coni sono divisi e quindi sono degli elementi distinti rispetto alla sfera nel terzo invece vediamo che è solido cioè c'è una superficie unica e quindi questo si dice a tenuta stagna o ermetica quindi è un solido ermetico vediamo degli esempi questo è una tazzina una tazzina da caffè realizzata in prototipazione rapida quindi stereolitografia come si può vedere è un solido quindi una resina realizzata quindi a partire da un modello virtuale digitale questi sono le quattro esempi di tazzina realizzate in prototipazione oltre ad essere un solido o una mesh appunto a tenuta stagna o ermetica l'oggetto deve essere posizionato nel quadrante positivo cioè noi vediamo vcs quindi coordinate mondo e il solido deve essere posizionato x positivo, y positivo e z positivo quindi queste sono le condizioni iniziali per essere poi realizzate in prototipazione non è possibile utilizzare ad esempio superfici, linee e così via ovviamente per realizzare output scheda quindi output ci sono due modi che adesso vediamo il primo modo è invia a servizio di stampa questa finestra di dialogo permette di avere delle informazioni con accesso diretto al sito di Autodesk dove ci sono delle informazioni aggiornate oppure continua la prima selezione mi chiede appunto selezionare il solido il sistema mi presenta questa finestra di dialogo in cui è possibile selezionare gli oggetti quindi oggetti solidi o mesh posso fare delle selezioni rapidi posso cambiare ma ad esempio fare uno zoom ma queste sono secondarie la cosa importante è questa, la scala in questo oggetto abbiamo selezionato una scala di fattore 10 perché ovviamente era molto piccolo e soprattutto questa scala è relativa alla lunghezza x, y, z quindi l'ingombro della nostra macchina di prototipazione le macchine di prototipazione hanno un ingombro massimo che in genere è di 10-20 cm quindi il pezzo può essere realizzato in un colpo solo se rientra in questa dimensione ovviamente i pezzi possono essere anche realizzati a fasi successive quindi noi abbiamo una x di 18 e 19,3 questo rientra in una categoria di macchine che gestiscono fino a una z di 19,20 ok a questo punto il sistema mi chiede dove salvarlo e noi abbiamo già fatto delle prove lo salviamo in un certo direttorio subito dopo come si può vedere se siamo collegati in internet veniamo dirottati direttamente al sito di Autodesk dove troviamo delle informazioni l'altro modo è quello di fare un esporta quindi selezionare la modalità esporta altri formati stl salva quindi diamo il formato come nome del file 4 anche qua selezioniamo solo il solido invio e come si può vedere il sistema senza nessun'altra richiesta mi ha prodotto il file stl quindi stereolitografia l'unica variabile interessante e comunque da settare è face3s che è una variabile che nella gestione dei file stl deve essere settata a 10 se non lo è il sistema in automatico lo gestisce e lo setta a valore 10 che è un valore abbastanza elevato medio alto confermiamo e poi possiamo fare e produrre direttamente il file in stereolitografia ciao a tutti Grazie a tutti